Ciao ragazzi e bentornate sul canale, oggi un nuovo video, oggi vi faccio un tour come promesso dal video scorso che vi avevo preannunciato dell'ingresso e finalmente abbiamo sistemato un po' tutto quindi vi vorrei mostrare come ho gestito gli spazi e organizzato il tutto vi faccio vedere i mobili che ho acquistato e poi insomma vi parlo un po' spero che vi sia utile per prendere spunto e quindi possiamo iniziare l'unica premessa che faccio è che noi abbiamo un appartamento di circa 65 metri quadri e diciamo che la parte dell'ingresso è molto molto grande potrebbe essere quasi una seconda stanza da letto perché? Perché noi purtroppo abbiamo solo una camera e questo spazio così grande nell'ingresso in realtà non è possibile sfruttarlo diversamente anche facendo delle modifiche strutturali e quindi mi sono dovuta organizzare di conseguenza e poter sfruttare al massimo gli spazi anche lì e anche a livello di armadi perché sono comunque case storiche che sono state costruite in un certo modo e avendo anche il bagno nell'ingresso e la porta d'entrata chiaramente lì non si poteva modificare nulla però sono soddisfatta di come siamo riusciti a sistemare perché comunque adesso essendo in due col cane avevamo bisogno comunque di un armadio in più e di tante altre cose però sono contenta del risultato finale e finalmente ve lo mostro anche già addobbato in stile natale così vedete anche le decorazioni che ho messo ok non mi dilungo partiamo subito e fatemi sapere qui sotto con un commentino un bel like cosa ne pensate allora parliamo di questo ingresso così grande qui c'è la zona giorno dove sono io e poi c'è la parte qui di ingresso allora questa è la porta che è stata semplicemente pitturata non abbiamo fatto modifiche né cambiamenti citofono e qui l'armadio PAX di due metri e mezzo che l'ho gestito veramente bene in base alle nostre esigenze e sono molto soddisfatta è stato rimontato adesso recentemente perché appunto con l'allagamento abbiamo dovuto cambiare la struttura poi di qua ho messo questo bellissimo mobiletto che è un heket bianco e verde salvia che ho decorato appunto con questi vasetti cioè questo di vetro con le ortensie vere che sono essiccate ci sono state regalate poi c'è la candelina sempre di Ikea e questo pezzo a giorno con un contenitore per nascondere gli oggetti a vista e poi qui nel push sono andata a mettere le cose di Chloe quindi del mio cane tutte le sue spazzole, i sacchettini, le cremine, le borracce, c'è tutto ed è comodo per noi poi girandomi di qua c'è la scarpiera del mio compagno che lui ha solo questa in entrata è marrone e nera quindi comunque si abbina un po' i dettagli che abbiamo messo neri non è il mio colore preferito infatti la scelta lui però dai non sta male qui c'è l'alberello di Natale che ho messo in ingresso con delle decorazioni che ho fatto pure io in gomma Eva cuoricini e un diffusore di erbolario molto buono al melograno e lo svuotatasche per mettere le chiavi quindi di qui appunto c'è la porta del bagno vi ho fatto un video dedicato andatelo a vedere se vi interessa e laggiù abbiamo l'attaccapanni nero sempre di Ikea minimal e comodo qua sotto in realtà c'è una cestina provvisoria dove ci sono cose di Chloe e degli ombrelli appoggiati ma non è il suo posto e qua su invece come dettagli sempre neri c'è l'omino che è il nostro lampadario acquistato su Amazon se trovo il link ve lo mando volentieri per poterlo acquistare qua sotto in descrizione e poi ho appeso questa decorazione molto carina e lassù sempre in alto nella porta che va dall'ingresso alla zona giorno ho messo questa bellissima scritta home che adoro l'armadio ve lo mostro velocemente nei dettagli cioè come l'ho organizzato dentro però vi ricordo che non è la mia parte di armadio quindi potrebbe essere un po' in confusione portate pazienza però la mente per come è stato gestito è la mia quindi allora lassù ho voluto fare un bastone per mettere gli abiti da lavoro maglie vabbè lasciamo perdere e camice che anche qui ci sono delle camice in utilizzo quindi buttate un po' così e là sotto ci sono i pantaloni nel cestello estraibile super comodo quindi qui c'è reparto work c'è un ripiano che si è già piegato a banana e quindi che a questo punto vi devo dire che non è proprio il massimo come qualità ma si sapeva c'è anche l'altro armadio che ho ha fatto così a casa dei miei però qui è una parte un po' umida della casa quindi sono un po' più piegati poi lassù ci sono giacche e cappotti e qua sotto ancora giacche e cappotti ho voluto dedicare uno spazio semplicemente tutto insieme mio e suo per le giacche perché non le sopporto insieme ai vestiti e quindi preferivo dividerle al meglio qua sotto ci sono contenitori con cose varie dello sport piscina c'è un po' di tutto e questo è il secondo blocco da un metro ultima parte è un deposito per noi molto utile in casa perché lo spazio è poco ed è anche qui da sistemare ma ho appena finito di montarlo ho giusto buttato dentro le cose al volo quindi portate pazienza anche qui lassù ci sarebbero tutte le decorazioni che metto via di Natale ovvero quelle che sto utilizzando adesso e quindi qua su ci sono solo cose di Pasqua e un vaso che ho rimesso su in alto per un momento questo in realtà è uno spazio misto quindi ci sono giochi di società cose che non vanno qui e una lampada che devo eliminare scatole insomma e qui ci sono attrezzi da lavoro e miliardi di viti e cose rimaste dai lavori quindi qui ci sono tutte cose che abbiamo utilizzato per imbiancare stacchetti per coprire i mobili e tutta una parte che adesso sistemerò con calma appena avrò un attimo e qui ho la sacca con gli attrezzi da palestra per fare esercizi a casa e il copredivano che ho appena lavato ho buttato qui un attimo scorte, scatole, cose una cornice nuova e qua sotto materiale creativo in questa scatola ho tutto il mio materiale con cose tipo acrilici c'è un po' di tutto e la lampada ha delle unghie quell'aspirante che al momento è lì ma devo spostare un po' in confusione però è veramente capiente questo mi ha veramente cambiato la vita perché abbiamo modo di sistemare tutte le cose insomma ingombranti quindi questo è praticamente il nostro ingresso se vi è piaciuto fatemelo sapere con un bel like un commentino qua sotto e se vi va iscrivetevi vi saluto vi mando un forte abbraccio e al prossimo video e al prossimo video